Via libera alle bonifiche relative ai siti di Versaris, mentre tutti gli altri procedimenti che riguardano suori e falde dovranno essere chiusi in 60 giorni e i successivi decreti del Ministero dell'Ambiente saranno emanati attuando le procedure d'urgenza che impongono tempi minimi per la firma dei decreti ministeriali. Per le bonifiche in aree pubbliche il Governo nazionale ha inoltre confermato 20 milioni di euro di trasferimenti alla regione siciliana, gran parte dei quali ancora disponibili. E' quanto emerso ieri al termine del vertice che si è tenuto al Ministero dello Sviluppo Economico. La presenza di tutti gli attori istituzionali alla conferenza di servizi a Roma, ha detto la sindaco di Gela, Domenico Messinese, rappresenta la volontà politica di accelerare gli ITER confermando il più alto livello di priorità data alle bonifiche nel territorio di Gela dopo anni di manchevolezze. I quasi 15 milioni utilizzabili, ha spiegato il vice sindaco di Gela, Simone Siciliano, saranno impiegati ad esempio per la discarica Cipolla e Marabusca. L'amministrazione comunale metterà a giorni una ordinanza di interdizione totale dell'area che verrà delimitata con strutture amovibili impiegando risorse regionali. Tra le questioni sollevate dalla Giunta, il Ministero dell'Ambiente esituirà a breve un tavolo tecnico con Isora ed il Ministero delle Infrastrutture per avviare le procedure per la bonifica e la rimozione dell'arelitto della New Rose arenata sul molo di Ponente del Porto Rifugio che a breve sarà sottoposto agli interventi di dragaggio e rinforzo a tutela dell'ambiente marino e a garanzia dei prossimi lavori di ripristino funzionale della struttura portuale. Per le aree che non ricadono nel sito di interesse nazionale e su cui l'amministrazione comunale la scorsa settimana ha chiesto la riperimetrazione, la Regione ha annunciato a giorni la conclusione di alcuni dei procedimenti autorizzativi con la conseguenza virtuosa che le bonifiche potrebbero avvenire prima della ridefinizione del SIN. In caso contrario comunque il Ministero si è impegnato a monitorare di concerto con la Regione le procedure autorizzative per garantirne la continuità amministrativa anche con il passaggio ad aree SIN e dunque con il passaggio alla competenza ministeriale. Finora per l'area SIN di Gela, ribadisce Siciliano, non sono stati mai sottoscritti accordi di programma quadro di alcun genere tra lo Stato e la Regione per utilizzare i fondi comunitari. Auspichiamo che questo si rimedirà con un provvedimento del relativo Dipartimento regionale. Emerge dunque come la cooperazione tra Regione e Giunta Comunale spoglia delle logiche partitiche abbia fatto cambiare radicalmente l'attenzione da parte del Governo centrale sul tema della salute ambientale a Gela.